Ciao a tutti amici di Sunshine Money, benvenuti e ben ritrovati. Come sempre prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi e ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare nel canale. Oggi prima di iniziare volevo rubarvi appena un minuto per parlarvi molto velocemente di un progetto a mio parere molto molto interessante. iDollar è una nuova cripto appena quotata su CoinMarketCap. Il progetto iDollar ci permette di guadagnare gratuitamente soldi tramite una web app oppure un bot telegram o whatsapp. Social che quotidianamente abbiamo tra le mani e che quindi rendono molto facile e veloce l'interazione con iDollar. Il progetto ci permette di guadagnare 1$ al giorno e il 50% degli iDollar guadagnati dai nostri ref con livelli udite udite infiniti. Capite bene che questo potrebbe farci guadagnare cifre molto molto interessanti. Tutto completamente gratuito. Inoltre iDollar può contare su un CEO di eccellenza. Troviamo al suo interno ex amministratori delegati e ex manager di realtà come bitcoin.com e crypto.com. Quindi non potevo non parlarvi di questa eccezionale opportunità. Per questi motivi vi consiglio assolutamente di non perdere l'occasione. Se volete prendere parte a questo favoloso ed innovativo progetto, basta iscriversi tramite il link che vi lascio in descrizione e verificare la propria identità per dimostrare di essere persone reali e non dei robot. Dopodiché guadagneremo 1$ al giorno rispondendo a una semplicissima domanda di carattere generale. Tutto velocissimo, praticissimo, semplicissimo e assolutamente gratuito. State tranquilli, nei prossimi giorni vi porterò approfondimenti su questo fantastico progetto al quale vi invito ad iscrivervi dal link in descrizione. Fatto questo brevissimo preambolo su questo interessantissimo progetto, veniamo all'opportunità di oggi. Opportunità che ho preso dal gruppo Facebook che come ben sapete ho creato da poco per voi per aiutarvi ad accrescere la vostra rete RF e quindi tutto sommato i vostri guadagni. Questo è un gruppo aperto, un gruppo libero. Attualmente siamo 32 membri. Ho visto che il gruppo sta crescendo velocemente, quindi ringrazio tutti coloro che si stanno iscrivendo e quindi stanno usando, stanno approfittando nel migliore dei modi di questa occasione, di questa opportunità che ho appositamente creato per voi, ripeto, per aiutarvi ad accrescere la vostra rete RF, quindi i vostri guadagni. Qui potete postare tutte le opportunità che volete, magari facendo una bella descrizione di ciò che state postando, semmai allegando anche delle prove di pagamento, così da rendere tutto più appetibile e quindi più visibile. Questo, ripeto, è un mio modo per aiutarvi ad accrescere la vostra rete RF, quindi tutto sommato i vostri guadagni. Approfittatene nel migliore dei modi. Detto ciò, veniamo all'opportunità di oggi. Opportunità che, quindi, ripeto, ho preso dal gruppo, quindi ringrazio la persona che l'ha postata. Questa opportunità ci darà la possibilità di guadagnare, di minare dei tron che andranno direttamente sul nostro account FawcettPay. Io sto facendo tutto in diretta, quindi mi registrerò insieme a voi. Per registrarci, come prima cosa, inseriremo in questa sezione il nostro wallet, quindi di tron e di FawcettPay, è una nostra password, quindi cliccheremo su Start Mining. Una volta loggati, la nostra dashboard si presenta in questo modo. Guardate come è carina, ci sono tutti questi animali simpatici. Ma perché ci sono questi animali? Beh, ogni animale ha la sua potenza di mining, quindi il suo costo. Qui stiamo parlando di un sito in cloud mining. Ricordo che il cloud mining non va assolutamente ad influenzare le risorse del nostro dispositivo, quindi da quel punto di vista possiamo assolutamente stare tranquilli, possiamo uscire dal sito, spegnere il computer e fare tutt'altro, che i nostri tron saranno minati automaticamente. Come si intuisce, come su tutti i siti del genere, è possibile investire di tasca propria, cosa che io sconsiglio fortemente, perché per esperienza, come ho detto, in svariati siti in cui vado a parlare di cloud mining, spesso queste realtà hanno vita breve. E qualora investissimo di tasca nostra, potremmo, ahimè, rischiare di perdere i nostri soldi, il nostro investimento. Quindi il mio consiglio è di sfruttare questi siti con tutto ciò che di gratuito riescono ad offrirci. Come discorso gratuito, praticamente, ci viene dato un animale e questa quantità di coin al giorno, come potete vedere. In questo modo potremmo cercare di crescere, appunto, facendo un discorso gratuito. Come potete vedere, il mio balance man mano sta crescendo. Se aggiorno la pagina, la cosa si nota di più, come potete vedere. Il prelievo minimo, molto semplicemente, basta andare nella sezione withdraw, si preleva, come ho detto ad apertura video, su faucet pay. Quindi, veramente, cosa molto semplice e molto, molto basilare ed intuitiva. Qui abbiamo anche il nostro reflink che possiamo condividere. Guadagneremo il 10% dei guadagni dei nostri ref. Qualora qualcuno decidesse di depositare, quindi di acquistare il proprio animale, basterà semplicemente sceglierlo. Quindi, premere sulla voce Buy Now, si arriverà a questa pagina. È possibile, come potete vedere, pagare in Litecoin, in Digibyte, in Dogecoin oppure in Tron. Se essi avessero difficoltà, è possibile contattare il rivenditore dell'offerta e quindi proseguire con l'acquisto. Io direi che non c'è null'altro da aggiungere su questo simpaticissimo sito. Quindi, in chiusura, come sempre, vi ringrazio della visualizzazione e mi raccomando, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare. Mi raccomando, like ai video, fanno sempre piacere, danno la forza di andare avanti e sostengono il canale. Ricordo che potete trovarmi, oltre che nel gruppo Facebook appena creato di cui ho accennato prima, nel gruppo Telegram ed infine sulla pagina Libra. Ritrovate, come sempre, tutti i link necessari in descrizione al video. Io sono Stefano, vi auguro buoni guadagni a tutti. Ciao e al prossimo appuntamento. Ciao e al prossimo appuntamento.